Ben trovati con lo spazio a cura di meteocalabria.net. È in atto in generale miglioramento, difatti il cielo tenderà a divenire generalmente terzo, ma farà ancora molto freddo. Uno sguardo rapido le mappe di previsione per i prossimi due giorni. Lunedì 18, Sareno su Tirrenica e Bassa Calabria, poco parzialmente nuvoloso sulle Ioniche ma senza fenomeni. Venti tesi da nord e tempo rigido, con possibili ulteriori gelate, nottetempo e dal primo mattino, specie nell'interno. Martirreno molto mosso, mosso lo Ionio. Dovrebbe persistere decisa stabilità anche per martedì 19 gennaio. Venti in attenuazione, mari poco mossi e temperature diurne in aumento. Grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento.